Zelli, mancano poche ore all'appuntamento elettorale di domenica, continuano ad arrivare nella nostra regione esponenti politici nazionali, ma questo centrodestra sta dimostrando di tenere moltissimo proprio alle elezioni in Abruzzo del 10 febbraio. Più si parla di Abruzzo, io ricordo sempre che negli ultimi due anni abbiamo visto l'Abruzzo su Striscia la Notizia, le Iene, il Gabibbo, insomma bisogna ritornare a parlare in maniera positiva e bella dell'Abruzzo, quindi anche riportare i tre leader che non si parlano dal 4 marzo insieme a noi, tra parentesi, su uno stesso tavolo secondo me è una cosa molto importante e chiunque dica il contrario lo fa solo per maniera strumentale. Lezioni importanti per la nostra regione, poi ci saranno le amministrative, le europee, ma molto dipenderà proprio da come andranno a finire queste regionali e da quello che sarà il risultato delle regionali. Sì, è così, è anche per questo che abbiamo tutta questa attenzione addosso, è chiaro che le europee sono alle porte più che le amministrative, perché poi qui c'è una differenza di visione, chiaramente per noi la cosa più importante sono le prossime amministrative di maggio, per i partiti nazionali chiaramente le europee. Tra le più grandi novità di queste elezioni regionali c'è proprio azione politica, questa formazione è nata da qualche mese ma che sta raccogliendo grandi consensi, tanti giovani avete avvicinato alla politica tante espressioni della società civile. Sì, noi siamo un po' in controtendenza perché crediamo che la politica sia anche qualcosa di diverso, non crediamo nei personalismi dei partiti, nei personalismi della politica, secondo noi la politica deve tornare a essere di tutti, noi stiamo cercando di riportare le persone alla politica e di sfatare questo mito dell'antipolitica e della cattiva politica che cavalcano i 5 stelle solo perché gli fa comodo chiaramente. Noi abbiamo esattamente l'obiettivo contrario, invece quello di far tornare la politica a essere di tutti e quindi di portare le persone a votare, di portare le persone come abbiamo fatto noi a decidere il programma della regione e a scegliersi i propri candidati. Quindi azione politica è l'unico movimento veramente civico di questa tornata elettorale perché è l'unica che ha preso le firme dei cittadini per poterci partecipare come avrebbero dovuto fare tutti quanti e quindi noi con orgoglio arriviamo al 10 febbraio pensando di fare veramente un ottimo risultato.